Masterclass Magari racconterò un po' come lavoro Perciò vi chiedevo se siete studenti di scuole di cinema Perché preferisco a quel punto spiegare un pochino più sull'iter, sul processo Sicuramente mi verrà in mente qualcosa Io direi che possiamo cominciare, noi siamo molto contenti A parte questa introduzione di elegante modestia con cui si è voluto introdurre Per noi Christian Petzold è uno dei massimi cineasti contemporanei Uno sguardo lucidissimo, capace di raccontare probabilmente meglio di chiunque altro I cambiamenti della storia, dell'economia, dell'immagine stessa Di come ha cambiato il modo di vivere, di desiderare, anche di amare degli individui nel corso del tempo Insomma, vi farei un altro applauso, visto che quello di prima era un po' più timido Allora io partirei dall'inizio E poi arriverei all'ultimo film Lei è stato allievo di due grandi cineasti del cinema di avanguardia Hartmut Bitomsky e in particolare di Arun Farocchi Che è uno veramente dei giganti del pensiero cinematografico Uno che ha portato tra l'altro i film fuori dalla sala Dal luogo in cui i film erano abituati a stare E che ha spiegato con estrema lucidità di cosa sono fatte le immagini A livello sia politico che economico Uno degli aspetti veramente straordinari del tuo cinema Che appunto almeno fino a Phoenix Che in Italia si chiama Il segreto del suo volto È sempre stato scritto da Farocchi Eccetto un film che è gerico E in qualche modo il tuo cinema è riuscito a tradurre A trovare, a evolvere anche in una forma che sta dentro la sala In una forma quasi addirittura di genere Il noir, il melodramma Una forma accessibile a tutti A un pubblico più vasto Una delle esperienze più radicali dell'avanguardia cinematografica Del film Saggio Ecco, io vorrei che ci parlassi Di questo rapporto estremamente importante Anche per come ha fatto parlare Farocchi È un pubblico più vasto È un pubblico più tempo In questa Zeitschrift Schrieben Hartmut Bitomsky Und Harun Farocchi regelmäßig E in queste riviste di critica cinematografica Scrivevano sia Farocchi E anche Bitomsky Bitomsky Sì Sì Ah, ok È un pubblico più la figura del ribelle Sopraffatto da queste due figure Non riuscivo a parlare Io ero un spielerio Giocavo anche a calcio E a un certo punto Farocchi mi aveva anche chiesto Se potevo giocare nella squadra di calcio Era proprio una vera e propria squadra di calcio Quindi della serie La squadra di Berlino Harun spielte linker verteidiger E Harun era difensore della fascia sinistra Era molto lento ma anche molto duro Invece io ero sulla fascia destra E ho giocato in questo club per una trentina d'anni Insieme a Harun E la nostra amicizia in realtà è iniziata proprio sotto la doccia Harun era anche professore a Vienna Und er hatte Anfang der 2000er Jahre 2005-2006 E' un film gemacht über Venture Capital Venture Capital Ja das ist Comunque all'inizio degli anni 2000 2005-2006 Aveva iniziato a fare un film su Venture Capital Risico Capital Cioè il capitale è di rischio Risico Capital Harun aveva constatato che l'economia stava cambiando I rappresentanti dell'economia non erano più queste persone noiose Ma si presentavano come degli edonisti Le donne in questa nuova economia Nella nuova economia Erano estremamente eleganti Con abiti di moda Burberry Si comportavano come se il capitale fosse un qualche cosa di sexy Und Harun portrettierte das Venture Capital Das Risico Capital In einem Film E Harun interpreta questo Venture Capital Questo capitale di rischio appunto nel film Der Film heißt Nicht ohne risico Il titolo del film è tradotto letteralmente Nulla senza rischio Nicht ohne risico Nel film si parla di una azienda Di una ditta È un film documentario possiamo dire In cui appunto questa azienda Non riceve più credito dalle banche Perché è ormai in una fase fallimentare E ora ha bisogno di capitale Che può attingere solamente da questo Venture Capital Capitale di rischio Harun filmte niemals interviews Harun non riprende mai Non fa mai interviste Er filmte immer der Moment der Kommunikazion E fa invece riprese Cioè filma i momenti della comunicazione E in queste interviste abbiamo il titolare dell'azienda E i rappresentanti appunto del capitale di rischio Nella trattativa Nella negoziazione Se si vede è un film molto interessante Estremamente interessante I risico capital Leute rauchen pfeife Hören Mozart in impausen Sprechen über Kunst E questa gente del Venture Capital Cosa fa? Fuma la pipa durante le pause Ascolta musica di Mozart Molto colti Invece il titolare dell'azienda Ha solamente paura Quindi abbiamo Il vecchio capitalismo Con il nuovo capitalismo Questo film mi aveva molto colpito Ich hatte dann den film Carnival of Souls Einen amerikanischen Horrorfilm Von Hank Harvey Avevo anche visto Un film di Hank Harvey American Souls Carnival of Souls Carnival of Souls Carnival of Souls Und sagte zu Harun Ich würde gerne Einen film machen Über die neue Ökonomie E quindi avevo detto a Harun Che mi sarebbe piaciuto Fare un film Sulla nuova economia Der aber ein gespensterfilm sein soll Però che doveva essere Un film Di fantasmi Und er sagt Und er sagt Das ist Eine gute metafora Weil er hatte das gefühl Dass das risiko capital Ein gespenster capital ist E questa l'ha trovata Una buona metafora Azzeccata Perché questo venture capital È anche Un capitale Di fantasmi Di spettri Weil das capital Um die welt läuft Und körper sucht Auf diese Si festsetzen kann Perché È come ricercare Questo capitale Proprio Di afferrare Questo tipo di capitale Come fa appunto Un fantasma Und ich benutze In meinem dreibuch Der film Hieß dann später Jella Benutzte ich Die original Verhandlungsdialoge Aus Haruns film E io nel film Che ha avuto Poi il titolo Di Jella Ho utilizzato Questi dialoghi Originali Di Harun Nelle trattative Appunto Der film War dann fertig Il film War pronto Erfolgreich Ha avuto successo Und Harun Hat dann Seinen film Nicht ohne risiko Und Jella Die scene Wo Die verhandlungen Stattfinden Die ja identisch waren Das identische Text war Mit zu seiner Universität Nach Wien genommen Harun Harun Tratte dal suo Film E dal mio Film Und das was Harun Begeistert hat War Dass die studenten Was ihnen in seiner Teorie Das Das Kapital Das Neue Kapitalismus Ein Gespenster Kapitalismus Ist Und So Fizional Ascheint Das nel crollo la crisi derivata dalla Lehman Brothers. E questo che cosa vuol dire? Che sebbene il cinema guardi più all'indietro, guardi ciò che è stato dimenticato, ciò che è andato perso, in realtà il cinema riconosce il futuro. Questa è una giusta masterclass, vero? Io a proposito di questi inizi di carriera volevo chiedere appunto da una parte abbiamo una figura così importante da un punto di vista teorico sia cinematografico che politico ma dall'altra c'è ne hai accennato prima parlando di Carnival of Souls anche un amore per il cinema di genere e volevo che ci parlassi di questo retroterra cinefilo che poi rivediamo continuamente nei tuoi film come una rilettura in qualche modo dei generi cinematografici. credo che si facciano film si possono fare film solo se si sono visti dei film mi è piaciuto molto anche l'ultimo film The Fableman anche lì chi ha visto il film possiamo dire che è un film che fa andare al cinema chi ha visto il film io ho visto migliaia di film e devo dire che è proprio una cosa di cui io mi posso nutrire posso proprio avere come nutrimento i film che io ho visto che sono importanti perché sono dei film che hanno un'importanza hanno un significato pensiamo al film Germania Anno Zero di Rossellini lui lì ha visto qualcosa a Berlino che nessun tedesco aveva visto abbiamo una città in macerie abbiamo ancora dei fascisti che sono in queste macerie delle case delle costruzioni abbiamo dei bambini che hanno dei volti come se fossero delle persone anziane lui l'ha visto e da questo ha tratto una storia quindi bisogna aver visto qualcosa prima hai citato i fantasmi i fantasmi nel tuo cinema sono molto importanti i fantasmi riguardano il cinema riguardano l'amore riguardano il capitalismo quindi vorrei che ci raccontassi questa centralità dei fantasmi nel tuo cinema in realtà ho finito la domanda da ove c'è John Wayne allora là sopra vediamo John Wayne il poster nel film The Searchers von John Ford nel film The Searchers di John Ford senti che selvaggi sì è finita la guerra civile americana quindi i soldati tornano alla loro vita civile di civili però non riescono non ce la fanno non riescono più venire a capo delle cose sono dei fantasmi l'Odyssea è proprio questa storia qualcuno che torna da una guerra e deve girovagare deve vagare appunto fare un viaggio per dieci anni prima di ritornare ad essere un uomo e quindi è un fantasma che io voglio materializzare appunto prima di tornare ad essere un uomo se non avessimo questi dieci anni di viaggio di Omero avremo dei fantasmi che vivono tra noi se consideriamo la guerra del Vietnam ad esempio e se pensiamo a questi soldati che hanno perpetrato massacri hanno fatto veramente delle ferratezze e quattordici ore dopo tornano tornano in un mondo che in realtà ha continuato ad essere normale completamente normale sono diventati dei fantasmi dell'orrore in varie situazioni vediamo questi fantasmi che tornano e che vagano lo vediamo in taxi driver in altre situazioni così come John Wayne che torna troppo presto e che ha fatto una reise come se fosse un soldato che era un rassistico e compie questo viaggio come se fosse un soldato un soldato razzista e come se fosse un soldato Goddard viene riaccolto come uomo ho sempre pensato fosse una mia percezione selettiva che il cinema che racconta che racconta sempre situazioni in cui le persone hanno perso il lavoro il grido di Antonioni ladri di biciclette ladri di biciclette visto che siamo qui in Italia vi cito questi sono sempre dei personaggi in procinto di diventare dei fantasmi perché hanno perso in questi casi il proprio lavoro ecco da lì viene questo concetto dello spettro del fantasma anche nella mia stessa vita personale la mia biografia mio padre per tre anni e mezzo è stato disoccupato in Germania si dice ecco quando ci si compra una casetta la classe operaia compra una casetta deve poi pagare il mutuo alla banca per 80 anni perché la casetta le case in questo caso appartengono alla banca le case sono costruite così in modo da avere una camera da letto una cucina un salotto e due camerette per bambini tutto è ben strutturato alla mattina l'uomo esce di casa la madre in cucina la donna in cucina poi i bambini fanno i loro compiti nelle loro camerette poi nel salotto nella sala da pranzo c'è la cena pronta i genitori vanno finita la cena nella loro camera da letto eppure i bambini nel momento di una crisi e la disoccupazione costituisce una crisi in questo caso il mio padre è 24 ore a casa in quella casa perché non ha lavoro ma non ha un suo proprio luogo in questa casa perché la casa non è strutturata per una persona disoccupata e io qualche volta tornavo da scuola avevo 13 anni all'epoca e mio padre era seduto in auto e ascoltava musica quello era il suo luogo tutto il giorno ascoltava la musica seduto in auto e io questo ritengo che sia un fantasma quando ho scoperto il cinema loro ho anche ricordato questi fatti attraverso i film della nuova Hollywood del neorealismo della nouvelle vague riuscivo a capire il cinema ecco mi interessava questa cosa che dicevi dell'automobile dello stare in macchina i tuoi film sono costellati da macchine da incidenti stradali anche quando sono fuori campo e in generale c'è come dire l'idea di questi luoghi di transito anche non luoghi momenti di sospensione del tempo e della storia e volevo che ci raccontassi un po' questo aspetto che mi sembra ricorrere tantissimo nel tuo cinema tanto che poi un tuo film si chiama In Transit ok hai due risposte in merito da darvi ovviamente la prima risposta come tedesco sulle auto l'auto per i tedeschi svolge un ruolo diverso rispetto all'auto per gli italiani in Germania ci sono ancora tratti di autostrada lungo i quali si può andare alla velocità che si vuole e i nazisti hanno inventato le autostrade la cosa interessante è che all'inizio non sapevano come si costruissero le autostrade la prima tratta autostradale che costruirono da Berlino a Magdeburgo era realizzata come se fosse una linea ferroviaria 120 km completamente tutta dritta e lungo questa tratta di 120 km c'era un unico albero e quasi ogni macchina sbatteva contro questo albero e quindi erano casi di suicidio diciamo poi i tedeschi hanno cominciato a costruire le autostrade come dei percorsi fluviali come se fossero dei fiumi in modo che le autostrade avessero questo andamento un po' variegato vediamo anche in Francia in Italia ma anche in Germania quando si percorre un'autostrada ci sono spesso questi cartelli che ci indicano cosa è successo di particolare in quella determinata località se ci sono dei personaggi o degli eventi conosciuti però sono dei luoghi che vengono solamente citati non si vedono mai sono indicati in questi cartelli quindi mi sono fatto due domande che cosa accade in queste macchine in queste automobili e mi sono anche fatto la domanda mi sono chiesto proprio ritornando a questo aspetto degli spazi di transizione che cosa accade a queste persone quando viaggiano e quando sono in queste auto Nel cinema da noi c'era una pubblicità dell'autonoleggio della società Sixt che era molto stolta la nuova S classe di Mercedes vermietare la società Sixt era molto orgogliosa di poter noleggiare il nuovo modello della Mercedes classe S questo si vedeva nello spot un imprenditore tedesco che è a terra al Cairo fa caldissimo suda tantissimo esce dall'aeroporto e viene praticamente assalito da persone che gli chiedono l'elemosina un sacco di persone appunto che si avvicinano ha la sua bella chiave della Mercedes classe S in mano all'epoca era il primo modello che si poteva aprire con un telecomando e quindi tutte queste persone che lo assillano che lo circondano si avvicinano e vogliono prendere lui apre la macchina col telecomando si mette la cintura chiude le porte e improvvisamente è tutto silenziosissimo perché la Mercedes classe S è la vettura più silenziosa in assoluto e poi si sente una voce che dice finalmente a casa questo per me è auto poi ho letto che molte persone che non possono fare un uomo non possono uscire avevo anche letto appunto che molte persone che avevano avuto un incidente stradale non riuscivano a uscire dall'abitacolo che se travolgono un animale preferiscono continuare la marcia se provocano un incidente subito scappano se ne vanno dal luogo dell'incidente perché non escono da questo essere a casa e con Harun abbiamo parlato molto proprio di questo aspetto e da lì è venuto fuori il film intitolato Wolfsburg non vedo Christian quindi non so se è finito ho finito ok ed è Il fatto di andare in giro con la macchina è quello che distrugge la nostra collettività. Hartmut Bitomsky ha in seinem film über Wolfsburg, un documentarfilm, in quel momento in cui l'arbeiterklasse un'automobile si può non più combattere per i propri diritti. Dice anche che la classe operaia ogni fine settimana pulisce la propria vettura perché vuole tenere alto il valore della vettura stessa. Questa dimensione estremamente lucida a livello politico si traduce però in un cinema che va incontro al pubblico, che cerca un pubblico. Tutti i tuoi primi film sono film che hanno una forte connotazione di genere, parlavamo prima del noir, del melodramma, dell'horror, della storia dei fantasmi, ma poi anche una parte di lavoro in televisione. Alcuni grandi cineasti a livello proprio politico hanno scelto di lavorare in televisione, Rossellini, Fassbinder. In Germania avete un grande autore che è Dominic Graf che lavora quasi esclusivamente in televisione. Quindi volevo che ci parlassi appunto di questa volontà di trovare un dialogo e di divulgare questo pensiero politico molto preciso a un pubblico ampio. Con Dominic Graf ho avuto lunghi dibattiti, lunghe discussioni. Non sono pienamente d'accordo con il cinema e la televisione. Ho spesso l'impressione che il televisione sia da, cose per perdere e per perdere. Vedo che la televisione è lì proprio per far sparire o far dimenticare le cose. Invece il cinema cerca di mantenere, per tornare in vita ciò che è dimenticato. Ma a volte anche il cinema un po' mi rompe, da fastidio. Besonders il soggetto Arthouse-Cino. Soprattutto quello che è chiamato Cinema Arthouse. Arthouse, Festivals. Io ho l'impressione che da 20 anni erano davvero film per i Festivals. Cioè come se per vent'anni avessi fatto film destinati ai Festivals. Che presentano un tema che può essere immediatamente ripreso dai giornalisti. Le solite tematiche, dall'Alzheimer alle migrazioni. E' un po' come quello che io e Dominic abbiamo voluto sfuggire dalla televisione per un certo tempo. Und zwar in i Criminalfilmi. I film Crimi. Le Commedie Crimi. Am Sonntag um 20.15 Uhr zur Primetime. La Domenica, Primetime, 20.15 Uhr. Perché sembra come essere un legame con i film noir degli anni 50. Man macht da nicht das einzelne Kunstwerk, sondern man ist Teil von einer Straße. Non si fanno singole opere, ma si è come una parte di una via, di un percorso. Und das hat mir große Freude gemacht. Questo mi è piaciuto molto. Ich hab da drei Filme in drei Jahren gemacht. Ho fatto tre Filme in tre anni. Mit den identischen Leuten. Sempre con le stesse persone. Hinter und vor der Kamera. Davanti e dietro la Kamera. Und das hatte so etwas wie in den 50er Jahren Anthony Mann oder Robert Aldrich oder Sam Fuller gearbeitet haben. Ed è come hanno lavorato questi personaggi che ha citato negli anni passati, negli anni 50. Trotzdem glaube ich, dass das Kino der Ort ist... Ich kann es mal so erklären. Potrei spiegarlo così, ecco. Ich bin vor drei Jahren gab es in Angers, einer französischen Stadt, eine retrospektive meiner Filme. Tre anni fa in Francia, Arrangeurs, hanno organizzato una retrospektive sui miei Filme. Ich bin da mit dem Zug hingefahren und abgeholt worden von der Festivalaltung am Bahnhof. Allora, mi sono recato in questa località in treno, sono venuti a prendermi alla stazione. Es war so ähnlich wie jetzt in Turin. Es war genauso kalt und ich hatte keine Lust. Più o meno la stessa situazione qui di Turin. Freddo, non avevo tanta voglia. Ich wusste, dass ich jetzt vier Tage über mich reden muss. Per quattro giorni, adesso dovrò raccontare... Sie hatten richtig schlechte laune. Insomma, non avevo proprio... Ero un po' di luna storta. Und wir gingen vom Bahnhof Richtung Hotel. Ci siamo spostati dalla stazione all'Hotel. Und dann war ein Kino dort links. A sinistra c'era ein Cinema. Und dann waren zwei Kinos auf der rechten Seite. A destra altre due Salle cinematografiche. Und dann gingen wir durch die Straße Rue de Jean Moreau. Poi percorrendo questa Rue de Jean Moreau. Und dann sagte ich, ihr habt aber viele Kinos hier. Und dann habe ich gesagt, ihr habt aber viele Kinos hier. Und das ist keine große Stadt, Angers. Und dann sagte ihr, eine Stadt ohne Kino ist ja keine Stadt. Und dann sagte ihr, eine Stadt ohne Kino ist ja keine Stadt. Und dann dachte ich, ihr habt völlig recht, der Mann. Und dann habe ich gesagt, ihr habt wirklich recht. Also eine Stadt ohne Kirche. Eine Stadt ohne Kirche. Eine Stadt ohne Kirche. Ohne Piazza del Mercato. Ohne anständige Restaurants. Eine Stadt ohne guter Ristorante. Ohne Plätze die allen gehören. Ohne Piazze che siano di tutti. Ohne Park und ohne Kino ist keine Stadt. Ohne Park und ohne Kino ist keine Stadt. Und das war mir klar. Und deswegen gehört für mich das Kino zum Leben und zu unserem Gemeinwesen und das Fernsehen nicht. Und das ist meine Idee, dass der Kino ist, dass der Kino ist, dass der Kino ist, dass der Kino ist. Speravo di riuscire a farcela, ad arrivare per le 20.30. Perché sapevo che c'era la partita Juve-Inter. Purtroppo noi eravamo troppo lenti. Forse c'erano troppi italiani in giro sull'autostrada. Und so haben wir das Spiel im Radio gehört. E quindi ci s'hanno dovuti ascoltare la radiocronaca della partita. Was toll, wirklich toll war. Una bella radiocronaca, tra l'altro. Und da dachte ich eigentlich ist Fernsehen Radio. E allora ho pensato, beh... Das ist ein Programm. Quiz Sendung, Werbung, Fußball. Das ist Fernsehen. La televisione, che cos'è? Pubblicità? Und die Filme... Giacci e basta. Die Filme gehören gar nicht mehr dem Fernsehen. I Filme non fanno più parte della televisione, non appartengono più alla televisione. Das Radio hat früher auch hörspiele gehabt. In Radio, in passato, c'erano anche tanti radioromanzi. Gibt es heute auch noch, aber ganz wenige. Ancora oggi si possono ascoltare questi radioromanzi, però sempre meno. Rai Cultura oder irgend so was. Rai Cultura fa qualcosa in questo senso. Aber das Radio braucht die hörspiele gar nicht mehr. Perché la radio non ha più bisogno di questi radioromanzi. So wie das Fernsehen das Kino gar nicht braucht. Così come la TV non ha più bisogno del Cinema. Deshalb verabfidig mich vom Fernsehen. Perciò ho detto ciao ciao TV, basta. Und mach Kino. Allora non ti chiederò niente delle piattaforme. Chiedo o non chiedo? Non chiederò. Das ist was anderes. Plattform sind was anderes. Allora le piattaforme sono qualcos'altro. Credo che le piattaforme siano come le case per i profughi del Cinema. Das sind die Filme die das Fernsehen nicht mehr wollte. Die sind auf den Streaming Dienst. I Filme die die Telefonie nicht mehr wollte, nicht mehr wollte. Adesso sind in Streaming. Früher konnte man so viele italienische, französische Filme im deutschen Fernsehen abends sehen können. In passato si potevano vedere sulla TV tedesca tanti film italiani e francesi. Die laufen heute bei Mubi. Adesso si possono vedere su Mubi. Mubi, Mubi. Die amerikanischen Filme laufen bei Amazon Prime oder Netflix oder Paramount Plus. I film amerikanischi si vedono su Netflix, Amazon Prime oder Paramount. Also das Fernsehen braucht die Filme nicht mehr. Die Filme sind in den Streaming Diensten. Quindi la TV non ha più bisogno dei Filme, perché i Filme sono in questi servizi Streaming. Und eigentlich, deswegen brauchen die Streaming Dienste das Kino noch. Perciò le piattaforme, lo Streaming, ha ancora bisogno del Cinema. Weil als ich vor drei Jahren in der Jury in Venedig war, Netflix nicht, hat kein Interesse gehabt an Venedig. Tre anni fa, quando ero in Jury a Venezia, Netflix non c'era ancora, non aveva ancora questo Interesse. Ne, wir brauchen euch nicht, wir kommen nicht zu euch. Non veniamo a Venezia, non abbiamo bisogno di voi. Jetzt wollen sie wieder. Invece adesso vogliono tornare, vogliono esserci. Weil sie gemerkt haben, sie brauchen stars, sie brauchen mythen, sie brauchen legenden und das Fernsehen und die Streaming Dienste können das nicht produzieren. Perché hanno visto che hanno bisogno di star, hanno bisogno di leggende, hanno bisogno di miti e quindi questo non c'è nella TV. Also die Streaming Dienste sind wirklich ein bisschen das Lager für ausgelagertes Kino aus dem Fernsehen und sie sind ein bisschen vielleicht auch die Zukunft für manche forme des Geschichten Erzählens. E quindi costituiscono, come dicevo prima, un deposito, sono anche forse delle forme che servono per il futuro della narrazione, del raccontare cinematografico. Aber man schaut sie auf ein smartphone oder auf ein iPad oder auf ein Fernseher und das ist kein Kino. Es ist einfach so. Nicht weil es klein ist oder groß ist oder sowas, sondern weil man es alleine guckt. Però ecco cosa succede, si guardano questi film sugli smartphone, su un iPad o su uno schermo, anche della TV, non tanto perché questi schermi siano più o meno piccoli, ma perché sono schermi e non sono un cinema. Deswegen mache ich mir um Kino keine Sorgen. Perciò non mi preoccupo tanto del cinema. Una delle cose che mi sembra più belle del tuo cinema è anche il rapporto molto forte che hai con gli attori. In particolare tutta la prima parte della tua carriera, quella scritta da Farocchi e funziona così un po', è una sorta di grande documentario sulla vita, il crescere di Nina Oss, che è una delle forse esperienze più strette tra un regista e un attore. Mi viene in mente Jean-Pierre Léau per Truffaut, ma insomma siamo lì nel senso che... vorrei che ci raccontassi un po', adesso ad esempio hai fatto gli ultimi tre film con Paola Beer, quindi vorrei che ci raccontassi un po' questo rapporto così intenso con gli attori, tanto da non solo richiamarli, ma in qualche modo fare memoria della loro storia, del loro crescere, del loro invecchiare in qualche modo. Io lavoro in questo modo, incontro gli attori tre mesi prima delle riprese, tre giorni. Sto con loro tre giornate. E questo lo faccio con tutti gli attori, anche con gli attori che forse nel film reciteranno un paio di frasi. All'inizio facciamo proprio una lettura a freddo del copione, della sceneggiatura. Poi parlo anche delle musiche che ho ascoltato durante la mia fase di redazione del copione, durante la mia fase di scrittura della sceneggiatura, appunto. E faccio vedere loro anche i libri che ho letto, sempre in questa fase di scrittura, i fumetti, i film che ho visto. E poi insieme in un pullman ci richiamo sui vari luoghi delle riprese, nelle varie location. Guardano, si guardano queste location, questi luoghi. Beziehungsweise io ando per le orte come un fremdenführer. E percorro questi luoghi come se io fossi una sorta di guida. O forse come un poliziotto. Magari indico, ecco, esattamente in questo punto si ritrova il cadavere. Oppure sotto questo albero si baceranno. In questo punto lui piangerà. Qui da questa parte ce n'eranno. Poi li lascio lì un giorno da soli. Loro girano, hanno un po' tutto il materiale in testa. E poi se ne vanno a casa. E quando si vederanno, è sempre così che quando iniziamo a girare, non sono in grado di un ensemble, perché siamo in collettivo. Ecco, poi quando tornano, prima che cominciamo con le riprese, quando tutti sono di nuovo lì, innanzitutto loro sono diventati un vero e proprio ensemble. E hanno interiorizzato, dopo aver visto i luoghi, hanno interiorizzato bene il copione, la sciaggiatura. E io con gli attori non ho mai dovuto portare avanti questi discorsi un po' stupidi di psicologia. Perché loro si sono proprio immedesimati. Non devo dire loro, ma guarda, adesso tu sei stato violentato. Non devo dire niente di questo. E da questa lavoro abbiamo un'attore molto intensivo, gli schauspieler e io. E io, insieme agli attori, da qui traiamo veramente del buon dibattito, ne parliamo. E zwar oft auch über das Kino. Parliamo anche del cinema, spesso. Nicht über die Psicologie. Non di psicologia. Während wir drehen, haben wir jeden dritten Tag Kino. E quando facciamo le riprese, ogni giorno, ogni tre giorni, guardiamo anche un film. Alla sera, il nostro cameraman ha proprio montato una sorta di cinema. Und da kommt das ganze team und auch alle schauspieler. E tutta la squadra viene, anche gli attori. Wenn sie lust haben, natürlich. Ovviamente, se hanno voglia. Und wir gucken film, ein Programm, was ich zusammengestellt habe. E ci guardiamo dei film, un Programm, a che ho predisposto io. Wir hatten für den letzten Film jetzt hier, Fire, wer ist nochmal? Cielo Brunschio? Cielo Brunschia? Ecco, per questo film, appunto, il titolo italiano, Il cielo brucia. Hatten wir von Vincent Minnelli, Some Came Running. Abbiamo visto questo film di Vincent Minnelli, Some Came Running. What's Up, Doc, von Peter Bogdanovic. What's Up, di Peter Bogdanovic. Clout. Von wem nochmal vergessen? Clout mit Jane Fonda, Donald Sutherland. Clout, con Jane Fonda e Sutherland. Non so, in italiano, il titolo. Fertigreich wieder einmal. Una scuola, su Ispettore Clout. Clout, lui li chiama Clout. Ok. So, solche filme haben wir gesehen. Ci siamo guardati questi film. So, die haben mit dem Film gar nichts zu tun. Che sono film che non hanno nulla a che vedere con quello che stiamo riprendendo noi, quello che stiamo facendo noi. Aber dann doch, dann haben sie doch was damit zu tun. Però forse alla fine anche sì. Das macht große Freude. Eh, questo ci piace molto. Und dadurch dass wir so viele Gespräche haben, habe ich das Gefühl, dass es ein Ensemble gibt mit dem ich über längere Zeit zusammenarbeiten kann. E proprio per il fatto che noi chiacchieriamo, chiacchieriamo a lungo, e abbiamo costituito appunto questo Ensemble che collabora già da tanto tempo, lavora insieme, questo è. Und jetzt der nächste film wird wieder mit ähnlichen Schauspielern sein. Also wahrscheinlich wird Paula Baer auch spielen wenn sie Zeit hat, weil sie doch eine brutale Karriere gerade macht und sehr viele Verträge unterschrieben hat. Aber mal schauen. E anche nel prossimo film credo che ci saranno una buona parte di questi attori. Vediamo Paula Baer, perché nel frattempo si sarà disponibile, perché è diventata ora molto famosa, sta facendo un'incredibile carriera, sta firmando tanti contratti, quindi vediamo se ci sarà la possibilità di lavorare ancora con lei. Il tuo cinema si può vedere non solo come una questione di genere cinematografico, ma anche come dialogo tra i generi, il maschile e il femminile. Hai molto spesso delle protagoniste donne e direi che in maniera sempre più impietosa guardi all'uomo, nel senso che l'ultimo film è veramente la storia di un uomo che riesce a vedere solo se stesso e non è capace di guardare il mondo intorno a sé. Quindi volevo che ci raccontassi un po' questa tendenza di lavorare soprattutto su donne e su uomini che non sanno in qualche modo vedere le cose. quando ero nella giuria al Festival di Venezia tre anni fa avevo ricevuto una chiamata. avevo ricevuto un premio scusate per un film di carattere femminista di linea femminista allora subito ho pensato beh mi stanno proprio prendendo in giro pure una trappola in cui mi vogliono mettere e poi ho richiamato e mi hanno detto no no guardi è una cosa seria perché ci piace un po' come lei ritrae i ruoli le figure femminili Allora subito ho pensato beh che cosa dirò quando sarò là in quella sala enorme con 500 donne che cosa dovrò dire? Non è che potrò prendermi il ruolo di fare un Marcello Mastroianni in quel momento cioè non funzionerà. Und dann hab ich mich erinnert daran dass der Schabroll als ich zum ersten Mal in meinem Leben in Venedig war das war 2000 mit dem film Innere Sicherheit war der Schabroll mit mir im selben hotel Schabroll 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 the state I'm in in inglese ecco the state I'm in the state I'm in sì e quindi Schabroll mi aveva detto una cosa eravamo nello stesso hotel e nella sala a colazioni si facevano le interviste Quindi io in quel frangente ero stato intervistato tre volte e lui 500 volte Und weil ich den Schabroll liebe habe ich mit einem ohr immer rübergehört Siccome mi piace Schabroll allora io cercavo un po' così di origliare di ascoltare che cosa diceva Und er wurde auch gefragt warum er so viele Filme macht mit einer Hauptfigur einer Frauen eine Hauptfigur eine weibliche Hauptfigur Und seine Antwort war so knackig hart brutale und klar Und er sagte Männer leben Frauen überleben und das Kino kümmert sich um das Überleben Allora la risposta è stata questa gli uomini vivono le donne sopravvivono ed è questo quello che fa anche il cinema Und deshalb spielen bei mir sehr viele Frauen die Hauptfigur Anche nei miei film i ruoli principali spesso sono interpretati da donne Ich muss jetzt leider gehen die Stunde ist vorbei Purtroppo abbiamo finito il tempo e devo andare Grazie Christian Grazie di essere stati qui con noi Grazie 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 Grazie